Nessun nuovo contagio, 19 guariti e zero decessi. Un'altra giornata positiva sul fronte coronavirus, quella che emerge dal report diffuso oggi pomeriggio dalla regione siciliana. Era già successo la scorsa settimana, poi i contagi erano ripresi, seppure nell'ordine di poche unità. Nessun nuovo positivo nelle ultime 24 ore in Sicilia, dunque a fronte di 1.132 tamponi effettuati, su 151.186 dall'inizio dell'epidemia nell'isola. Le persone contagiate da marzo agli ultimi giorni sono state 3.443, ma gli attuali positivi sono 967. Come dicevamo, altre 19 persone sono guarite. La maggior parte dei positivi sono in isolamento domiciliare, 894. I ricoverati sono 73. Una persona in più rispetto alle 24 ore precedenti ha dovuto far ricorso alle cure dei sanitari e della terapia intensiva che accoglie 8 delle persone contagiate nell'isola. Intanto si attende conferma per i 4 sanitari dell'ospedale San Giacomo d'Alto Passo di Licata che nelle ultime ore sono risultati positivi al primo tampone. Si tratta di un medico e tre infermieri che, assieme agli altri operatori sanitari della struttura, erano stati sottoposti a controllo nei giorni scorsi. Sarà effettuato a breve un secondo tampone per capire se si tratta effettivamente di nuovi casi di contagio o di false positività, come è successo nelle scorse settimane per altri 4 operatori sanitari dell'ospedale San Giovanni di Dio di Egrigento. Anche in quel caso i tamponi avevano inizialmente dato esito positivo, ma i successivi controlli avevano poi escluso che si trattasse di nuovi contagi. Se anche il secondo tampone dovesse confermare la positività dei tre infermieri e del medico in servizio all'ospedale di Licata, innubbiamente ci si troverebbe di fronte ad un problema per la struttura sanitaria. Sarebbe poi una doccia fredda per tutta la provincia, ormai proiettata verso l'azzeramento dei casi, seppure già nello scorso fine settimana si è stato accertato un nuovo caso a Campobello di Licata, che ha fatto salire nuovamente a 4 il numero delle persone ancora positive nel territorio agrigentino. Grazie.